Noto, violento schiaffo all'arbitro, d'aspo sportivo per tre anni emesso nei confronti di un calciatore. Nella giornata di ieri, agente del commissariato di Noto hanno provveduto a notificare un provvedimento d'aspo emesso dal questore di Siracusa nei confronti di un calciatore che durante un incontro di calcio giocato da una compagine nettina colpiva con un violento schiaffo il direttore di gara causando per tale motivo la fine della partita, atteso che l'arbitro non era più in grado di dirigere l'incontro. Il giovane atleta ha commesso il deprecabile gesto per punire l'arbitro colpevole ai suoi occhi di aver espulso un compagno di squadra che aveva colpito con un attestato un avversario. I fatti opportunamente segnalati dagli agenti del commissariato Nettino al questore di Siracusa insieme alla relativa notazione della Digos comportavano la preparazione del provvedimento d'aspo da parte della divisione anticrimine poi adottato dal questore per la durata di tre anni e l'obbligo di presentazione del giocatore al commissariato durante lo sorgimento di tutte le partite in cui è impegnata la propria squadra.